La ringrazio anche da Milanese per l'interrogazione. Il quesito posto riguarda una vicenda che noi, ahimè, ben conosciamo. Premetto che le competenze del Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti in merito sono assolutamente residuali, visto che le competenze sono delle Regioni e dei Comuni. Posso però sicuramente ricostruire quello che ci è stato fornito come risposta da Prefettura, Regione e Comune di Milano. Il Comune, con delibera raggiunta comunale del 18 aprile scorso e poi con ordinanza sindacale del successivo 12 luglio, ha disposto, come le ricordava, il trasferimento di 34 nuclei familiari ROM, residenti del campo di Bianfonfadini, in alloggi di edilizia residenziale della società metropolitana milanese, gestore per conto del Comune. Al momento dello sgombero risultavano presenti 31 persone corrispondenti a 14 nuclei familiari. Tutti e 14 nuclei di nazionalità sinti sono stati riconosciuti in stato di necessità per condizioni di fragilità, con un esame immediato e sicuramente curioso. Ai fini dell'associazione dei nuovi alloggi, tali famiglie hanno sottoscritto un patto di servizio che prevede incontri periodici durante il periodo di locazione. Nel disporre tale trasferimento, il Comune ha applicato una causa prevista dalla legge regionale 16 del 2016. L'applicazione di tale norma, come lei ricordava, è demandata una valutazione discrezionale del Comune, in questo caso del Comune di Milano. Sottolineo quindi che spetta all'amministrazione comunale ponderare i diversi interessi da tutelare. In conclusione condivido la preoccupazione degli onorevoli interroganti. Basta andare a fare una ricerca su internet per ricondurre ai residenti in via Boffadini ed intorni droga, traffico di rifiuti, reati ambientali, costruzioni di vigli abusivi, furti, ritrovamento di refurtive, oro e gioielli, incendi, auto rubate e inseguimenti con la polizia. Quindi lascio giudicare a chi ci sta ascoltando e alle istituzioni proposte se questi nuclei familiari residenti in un contesto che la cronaca ci ricorda e ci riconduce a questi eventi siano meritevoli di superare migliaia di altre famiglie milanesi in coda per l'assegnazione di una casa popolare. La mia risposta evidentemente è no.